Cartoon Village La manifestazione è stata realizzata grazie all'impegno di un grande staff L'associazione Orion Eventi, guidata da Francesco Santioli e Andrea Bisconti e con la direzione artistica di Mirko Fabreschi, leader della band Raggi Fotonici ha radunato ai piedi del monastero di Abbadia San Salvatore più di 50 ragazzi che per tre giorni hanno lavorato per rendere possibile l'evento Primo pomeriggio di Cartoon Village, come sono andate le adesioni fino a questo momento? Sì, hai detto benissimo, siamo al primo pomeriggio, Cartoon Village è partito dalle 14 sono aperte le danze, quindi i laboratori, le mostre e anche il palco ha cominciato a suonare le canzoni di Cartoon Animati hanno aderito la cooperativa, associazioni, enti organizzati del territorio di Abbadia San Salvatore sono accorsi dai nostri ingressi, dalle vie che l'hanno portata via in 3 Cartoon Village è partito dalle 14 effettivamente, realmente, questa volta il nostro piccolo paese si è trasformato in un villaggio, nel villaggio dei cartoni animati Cartoon Village è un'esperienza a 360 gradi sul mondo dei cartoni animati molti anche quest'anno gli artisti che hanno partecipato all'evento Quali sono gli appuntamenti del weekend di Cartoon Village? Il Cartoon Village quest'anno propone delle grandi novità rispetto all'anno scorso ci sono delle mostre allestite permanentemente per tutti e tre i giorni c'è la scuola internazionale di comics che produrrà dei laboratori e dei workshop in continuazione ci saranno delle scuole di doppiaggio, spettacoli e concerti come il concerto dell'Arcadia e il Cartoon Village Festival in cui tutti gli interpreti originali riproporranno le sigle dei 30 anni dei cartoni animati che ci hanno cresciuto a tutti quanti e che crescono tuttora i bambini aspettiamo con grande apprezzione tutti quanti questo spettacolo sperando che tutto vada bene e che le adesioni siano tantissime Boom di presenze per il concerto dell'Arcadia Wind Orchestra sentiamo il suo presidente e direttore del concerto quanto lavoro c'è dietro a una serata simile? C'è tantissimo lavoro, soprattutto da parte dei musicisti arrangiatori perché immaginatevi noi abbiamo eseguito per coro ed orchestra quindi all'incirca un centinaio di persone, 23 brani musicali per due ore di musica la preparazione poi oggettiva dal punto di vista musicale come prove è stata abbastanza snella ma la preparazione logistica è stata veramente impegnativa Ho usato la mia spada migliaia di volte, come già vi ho raccontato per difendere il mio onore e quello dei miei amici ci sono amici imprevedibili, veloci come guizzi di luce ma che da soli non sono capaci di tirarsi fuori dai guai ce n'è uno in particolare che avrei dovuto uccidere molto tempo fa così voleva il mio maestro quando mi insegnò ad essere un assassino e invece il destino ci è unito vi racconterò di Lupe, del suo braccio destro Giga, della bella Fugicao e dell'ispettore Zenigata amici e nemici uniti tra loro da un indissolubile destino Lupe è un uomo capace di vivere più vite contemporaneamente può presentarci al momento giusto con la giusta identità è capace di correre, scappare, uoversi liberamente da un posto all'altro avendo sempre in mente un piano ben dettagliato una tattica per l'attacco e poi la fuga mai avevo visto Lupe con un gusto così forte per il furto la passione per i gioienti, le opere d'arte ma con un talento innato da detective capace di far crollare finzioni e inganni Lupe è il suo nome no, 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 Gaemon la tua presentazione non mi rende giustizia io sono il nipote di Arsène Lupe il più grande ladro di tutti i tempi sono il migliore il numero uno non esiste la parola impossibile nel mio vocabolario hanno scritto anche una canzone che sottolinea le mie capacità come? non ci credete? qua abbiamo un'orchestra e per i coristi bellissimi prego è questo? prego è questo? non ci credete? non ci credete? I'm a super hero I'm a super hero I'm a super hero The hero of today Everyone Wishes they could be like me Like you Smart and cool I'm so old and so sexy Sexy To beat a hero Somebody who is just like me To beat a hero L'arma stretta Dai carnetto Che tocca a te Che tocca a te Tiger Man Solitario nella notte Va se lo incontri Gran paura Fa il suo bosco Ha la maschera Tigre Tiger Man Tigre Tiger Man Tigre Tiger Man Misteriosa la sua identità E' un segreto Che nessuno sa chi nasconde Quella maschera Tigre Tiger Man Tigre Tiger Man Tigre Tiger Man Tigre Che l'uomo vive Che lotta contro il male Combate solo L'amagatità Con la paura Si batte con turore Che non di pronto Vincere Ti sa Il mondo Ti libera In fondo Grande il cuore Combate solo Per la libertà Vincere dei tuori Sa cos'è l'amore Il nostro eroe Mai si perderà A tanti amici E' grande la bontà Ma con nemico Non ha vietà Tiger Man E' grande la bontà